Benvenuti su Gurocca Sergio Pizzo Scalino. Ciao a tutti gli amanti della Valmalenco e di Lanzada. Volevo dedicare un breve momento per ringraziare chi già segue il canale e per invitare tutti coloro che lo visitano, ma non sono ancora iscritti, a farlo gratuitamente. L'iscrizione è totalmente gratuita e rappresenta un modo semplice per supportare il canale. La vostra iscrizione mi incoraggia e mi motiva a creare ancora più contenuti interessanti sulla nostra meravigliosa Valmalenco, con un focus particolare su Lanzada e i suoi aspetti turistici e sportivi. Il vostro supporto è fondamentale per la crescita del canale e per continuare a condividere con voi le bellezze di questa zona. Se amate la Valmalenco e volete esplorarne gli aspetti turistici e sportivi, vi invito a iscrivervi e a mettere un bel like ai video che vi piacciono. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblicherò a breve. Grazie a tutti coloro che già fanno parte della nostra community e un caloroso benvenuto a chi si unirà a noi. Link all'iscrizione al canale Sergio Rocca Pizzo Scalino. A presto con nuovi entusiasmanti video sulla Valmalenco.